Mio Dio, ce l'abbiamo fatto! Ma dov'è il Dottor Kleiner? Dottor Kleiner, ci tiri fuori! Alex? Gordon? Mio Dio, come siete arrivati qui? E quando? Cosa c'è che non va? Mia cara! Avevo perso ogni speranza di rivederti! Temevo anch'io che non ce l'avremmo fatta! Credo che il teletrasporto sia esploso non appena siamo usciti! Infatti! E le ripercussioni sono state avvertite ovunque! Ma è stato più di una settimana fa! Che vuoi dire? Gordon e io eravamo lì un attimo fa! Affascinante! E il nostro teletrasporto sembra molto lento! Questo apre una prospettiva completamente nuova! Una settimana? Cosa ci siamo persi? Molte cose mia cara! L'attacco a Nova Prospect è stato interpretato come un segnale per iniziare la rivolta! E che ne sarà di mio padre? Beh, notizie preoccupanti! Secondo i Vortigaunt, tuo padre è prigioniero nella cittadella! Dobbiamo tirare mio padre fuori di lì! Barney ha sferrato un'offensiva con quell'obiettivo in mente! E un altro dei tuoi amici è arrivato diversi giorni fa! Doc, ce l'è fatta! Bravissimo! Ecco, vedi? Non tutto è perduto! Vorrei condividere il suo ottimismo, dottore! Doc, entra! Sei lì? Ehi, Doc! Sei lì? Sì, Barney! E non sono più solo! Alex e Gordon sono appena arrivati! Ehi, che bella notizia! Vi davo quasi perspacciati! Stiamo pianificando come attaccare la cittadella! Gordon e Doc vengono con te! Io porto il dottor Klein a un posto più sicuro, poi ti raggiungo! Qualsiasi aiuto è ben accetto! Oh, cavolo! Arrivano! Forza! Muoviamoci! Ok, Gordon, l'hai sentito! Ti raggiungo appena sistemato il dottor Kleiner! Un momento! Non posso andare senza la mano! Chissà dove è andata ora! Vai, Gordon, ci penserò io! Gordon! Abbi il foro! Vettor Kleiner! Vettor Kleiner! Vettor Kleiner! Vettor Kleiner! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.